Grazie mille a Marilena che ci scrive Good Morning dalla Milano che ci piace e mette una foto e aggiunge poi con la scighiera Eh sì, c'è un po' di nebbia in giro per la città ma è quella Milano che ci piace tanto, a noi romantici ci piace tanto E chissà se piace anche la scighiera magari appoggiata sulle acque del Naviglio, perché dico questo? Perché abbiamo qui con noi Simone Lunghi, buongiorno Buongiorno, buongiorno a tutti, la scighiera è una figata totale, assoluta Sulle acque del Naviglio ma dovunque, la scighiera dà magia, assolutamente Poi ti permette un po' anche di non capire bene quello che succede intorno a te secondo me avere troppe certezze nella vita, non va mai troppo bene Ti tiene su quel mistero e quell'attenzione che è giusto avere, no? E allora Simone Lunghi che conosciamo benissimo perché abbiamo apprezzato, diciamo, ennesimo amborgino d'oro che viene qua a trovarci Ne avete avuti altri Guarda, arriviamo ospiti di una certa caratura, molto dorati devo dire, quindi sono ben contento quando vengono a trovarci Amborgino d'oro che anno era? Era il 21 2021 Si fa sempre casino Sanborgino, perché lo danno alla fine dell'anno quindi ti sembra già l'altro, però secondo me era il 21 Non sei mai infatti, vincito anche il Milano Storytelling Awards forse un paio di volte anche con la canottiera di San Cristoforo Quello che molti ricordano come angelo dei navigli che poi insomma si è preso così bene che dai navigli si è andato a tutta la città, no? Gli angeli del bello E abbiamo formato gli angeli del bello, sì ho violentato la mia non voglia di andare davanti a un notaio, davanti poi col commercialista e tutto E abbiamo fatto un'organizzazione vera e propria, ci siamo registrati e a quel punto lì ci siamo occupati di difendere e diffondere il bello Non solo dei navigli ma di tutta la città, infatti, e quindi presidente appunto, diciamo, parliamo di notai, il presidente degli angeli del bello Che ormai cominciano ad essere davvero ovunque in questa città, che bello quando questi virus positivi vanno in giro per la città Sì, abbiamo fatto proprio un virus, abbiamo contaminato piano piano tutta la città, l'idea iniziale è stata un po' cambiata Perché inizialmente io pensavo di fare un'associazione che sfruttava un pochettino le persone che ho conosciuto diventando famoso, tra virgolette, come Angelo dei Navigli E diceva, facciamo tre appuntamenti in giro per la città, tre grosse adunate, uno con Aldo, uno con Giovanni, uno con Giacomo Vengono mille persone, una volta al Forlanini, una volta al Parco Nord, per dire E invece la cosa abbiamo capito che era molto meglio farla più puntuale, più periodica, con costanza E quindi abbiamo cercato di aiutare i milanesi che volevano aiutare Milano Ecco, questa è più o meno l'idea E quindi tanti gli angioletti appunto che si sono aggiunti Tanti comitati, siamo intorno alla ventina di comitati sparsi in giro per la città L'attività si fa principalmente nel fine settimana e quindi ogni fine settimana abbiamo magari tre, sei, otto Abbiamo toccato il punto massimo di dieci appuntamenti sparsi in giro nel weekend Perché praticamente tutti i weekend, cioè non c'è un weekend praticamente dove gli angeli non sono da qualche parte È da 53 weekend che ogni fine settimana abbiamo attività in giro E infatti noi ti vediamo qua per festeggiare con te appunto questo 52 Passata già la settimana è passata da quando c'è stato il telefono la prima volta Quindi 53 settimane senza dimenticarsi di Milano Bravo, 53 settimane senza dimenticarsi di Milano, sì, esatto Insomma, un bel risultato Non avresti mai pensato, tu pensavi di fare una roba così Lasciarlo tre volte all'anno Io tendevo la pigrizia inizialmente Pensavo di fare appunto questi tre grandi appuntamenti Lavori una settimana, due settimane prima per farlo, insomma per lanciarlo E invece la cosa ha preso una piega leggermente diversa Però siamo molto contenti, abbiamo fatto partire dei progetti anche notevi Abbiamo delle grandissime soddisfazioni in generale Abbiamo le persone che ci ringraziano per quello che facciamo Poi abbiamo anche capito che un tempo si diceva che devi saper fare Perché insomma se fai le cose fatte male non va bene Saper far fare Poi qual era il terzo? Saper comunicare anche, mi verrebbe da dire Ma ormai in questa... E quindi aggiungere una terza adesso che quella Saper le comunicare E poi far sapere È fondamentale far sapere per riuscire a creare un pochettino di emulazione In maniera tale che altre persone possono venire a dare una mano O possano anche fondare una cosa per i fatti propri Però combattendo una battaglia al tuo fianco Bene, ma io sono molto curioso di sapere chi sono questi angeli Allora adesso ci ascoltiamo una canzone Poi dopo mi dici un po' chi sono questi angeli Raccontami magari di qualche angelo così che... Ah ci sono molte storie Ecco infatti, allora va bene Adesso ci ascoltiamo Dominic Freak con Mona Lisa E poi appunto qua con Simone Lunghi e gli angeli del bello Dominic Freak, Mona Lisa Le 8 e 23 minuti su Crystal Radio Good Morning Milano Qui con Simone Lunghi e gli angeli del bello Quasi 20 gruppi, anzi forse più di 20 gruppi in giro per la città Ma chi sono questi angeli? Beh, allora gli angeli del bello Per associarsi Chiaramente la gente che vuole associarsi Non le diciamo di no Però per fare gli interventi Sono persone che hanno a cuore Milano Persone che si fermano Persone che si fermano sui social e poi ci vengono a raggiungere E questo è un'attività Diciamo che noi abbiamo due motori Inizialmente con i volontari ci siamo presi cura della città Ok E poi piano piano abbiamo scoperto che si poteva prendere cura anche delle persone Le persone cui ci prendiamo cura sono essenzialmente persone Che ci vengono affidate dal tribunale All'interno di due sigle Adesso ti parlo per acronimi purtroppo Che sono LPU Che sono i lavori di pubblica utilità E i MAP Che sono persone che chiedono il periodo di messa alla prova Che puoi prendere una sola volta Diciamo in linea di massima Sono incensurati Che più o meno alzano la mano E dicono guardate Non facciamo il processo Facciamola breve E vi dimostra se sono una brava persona E quindi il giudice gli dà Un periodo di tempo in cui non devono fare sciocchezze Diciamo E devono dimostrare Facendo i lavori di pubblica utilità Che sono utili alla società E devono un po' ridimmersi Noi abbiamo preso queste persone in carico Le mettiamo incrociate Insieme a persone volontarie E quindi succede una cosa bellissima Perché queste persone Sono contaminate dall'entusiasmo dei volontari Sono contaminate dall'entusiasmo dei passanti Perché spesso i passanti si chiedono Soprattutto quando inizia a fare le attività Più o meno tutte le settimane Una volta la persona porta il cane a fare pipì E non si accorge La seconda volta sta guardando il cellulare E non si accorge La terza volta si accorge ma è timido La quarta volta ti dice Ma voi chi siete? Ah siamo volontari che facciamo questa cosa qua Perché ci piace l'idea di Milano pulita Vogliamo Milano bella E quindi spesso sono pacche sulle spalle Sono sorrisi Ogni tanto è un caffè offerto E queste persone A volte c'è il professor universitario Che viene magari a fare il map Perché l'hanno fermato a un posto di blocco E ha bevuto un mirto di troppo Oppure ci sono persone che hanno delinquito Perché non hanno Perché insomma avevano difficoltà di inserimento Anche nella società E grazie a questa cosa Abbiamo avuto delle lettere di genitori Che ci hanno scritto Che hanno visto il figlio trasformato Perché era magari sulle soglie Dell'autoreclusione sociale Sindrome Chico Mori E invece grazie a noi Grazie a questi sorrisi Grazie al fatto di vedere che qualcuno Gli ha offerto il caffè Hanno iniziato un po' A tirarsi fuori Abbiamo lettere Di un milanese Che diceva Che lui non andava in Sarpi Da tanto tempo Che inizialmente Era partito Vedendo questa cosa Come un dovere E poi è diventato un piacere Di venire a pulire E ha imparato anche ad amare La via Paolo Sarpi di adesso Che chiaramente È molto diversa Rispetto a quella di un tempo Magari il simbolo È più il gusella Dove la mamma Lo poteva comprare le scarpe E magari il simbolo adesso Sono i ravioli cinesi E però insomma È bello riuscire a A vivere A respirare il mondo A Milano In Sarpi si respira davvero Un'atmosfera internazionale Beh lì infatti è uno dei punti Più famosi In cui voi appunto Ormai operate Devo dire che Noi abbiamo lì La responsabile Doris E il suo braccio destro Pierre Che sono straordinari Nella voglia che hanno Loro lo dicono sempre Per noi non è un sacrificio Questa cosa qua Vogliono uscire Dalla ritorica Del sacrificio Però comunque Sì vanno Un mazzo a capanna Perché sono lì Tutti fine settimana A fare questa attività La cosa bella poi È che Grazie È stato un po' difficile Riuscire a entrare Nella comunità cinese Però adesso Grazie a Francesco Wu Tra l'altro Anche lui Ambrogino d'or Che ho conosciuto Proprio in occasione Dell'Ambrogino Qualcosa si muove Diciamo Sì siamo riusciti Abbiamo tre Tre cinesi Che sono lì con noi Dai bene bene Insomma questo è quello Che possono fare Gli angeli del bello A Milano Torniamo fra pochissimo Subito qua Max Gazzè Ti sembra normale Quello che ci chiediamo Anche quando vediamo Simone Lunghi Ma ti sembra normale Simone Lunghi Se mi sembra normale Io No no Ce lo chiediamo noi Ce lo chiediamo Ce lo chiediamo noi Quando ti vediamo Però a te sembra Sì Ti sembra tutto normale Quello che fai Quello che Allora sì A me sembra molto normale Ecco Sabato Però sono andato A fare strada Perché Allora tutti pensano Che io sia Mega attivo Così In realtà Io faccio solo Tutto quello che faccio Si vede praticamente Ok Quindi non c'è nient'altro Non c'è assolutamente Nient'altro E quindi poi Rimango catatonico In casa Mezzo moribondo E non faccio mai Una roba normale Tipo mangiare il gelato Con degli amici No E invece sabato C'era una bella giornata Sono andato sul lago Di Monate E poi anche sul lago All'Aveno Tipo l'acqua ti chiama sempre C'è poco da fare Sì E però insomma Ho mandato un messaggio Mi ha fatto un piccolo video Ho mandato un messaggio A mia mamma E le ho anche detto Ti voglio bene E mia mamma Mi ha scritto Mi devo preoccupare E le ha detto In che senso Perché è vero Che non le dico mai Ti voglio bene Le mi ha detto No perché hai fatto Una cosa normale Come tutta una giornata Di relax Perché di solito Il mio relax Non lo vede nessuno Perché sono sul divano La cosa bella Che appunto Mi sembra un po' strano Quello che fa Sembra Lunghi Però la cosa bella Che in tanti Per fortuna Lo seguono Appunto è questa La cosa bella Questo è il bello Di Milano Secondo me Perché a Milano C'è questa cosa Dove in molti Approfittando forse Del fatto della folla Così insomma Del concetto Del mimetismo In mezzo a tante persone In molti hanno il coraggio Di essere se stessi Di essere diversi Siamo uniti Nelle nostre diversità Quindi non c'è Quello che succede In provincia Dove magari C'è questa paura A sembrare Fuori dal coro Invece a Milano Si può fare tranquillamente Quindi io Quando vado in giro In pattini Così C'è meno Quando ho cercato Magari tramite i social Sconosciuti Per fare delle cose Con quella Ne arrivano a bizzatte Un attimo Un attimo Adesso abbiamo anche fatto Per esempio Vabbè questa qui Era facile Però abbiamo fatto Un Halloween alternativo Sull'acqua E c'erano 100 persone Così Alla sera Sul naviglio Vestiti Chiaramente A dovere A modino Ma come vanno Le attività Sull'acqua Ricordiamo sempre Che tu hai Una visione Privilegiata Della città Perché la vedi Da un elemento Che magari Noi Sì sappiamo Che esiste Ma Non siamo mai Stati in quell'elemento E abbiamo guardato La città Da quell'elemento Beh allora Dunque Anzitutto Questa cosa qua La visione Che ho Di Milano Dall'acqua È fantastica Perché Io i navigli Li vivo In due momenti Essenzialmente E la cosa Più strana Vabbè Uno è la movida Che io Però vivo In maniera Un mio amico Artista Mi ha definito L'eremita Della movida Perché io sono In mezzo Alla movida Faccio un casino Pazzesco Ma sono comunque Distaccato Perché sono da solo Magari C'è una canoa In mezzo E faccio far casino Faccio battere le mani A gente Corretti Il fiorello Dei navigli E Invece Poi vivo I navigli In una situazione Ancora più privilegiata Secondo me Che quando passo In canoa Al mattino E sul naviglio C'è una calma piatta C'è una poesia Incredibile E c'è il silenzio Cioè vedere il naviglio Silenzioso Con la gente tranquilla Che fa Colazione al Bar e io In mezzo All'acqua Posso realmente Sentire il rumore Del cucchiaino Che stempera Lo zucchero E il caffè Nella tazzina È una cosa Bellissima E ti fa capire Come Perdonami Ma questo lo devo dire Come Se tu Metti un po' All'angolo Le macchine Perché sui navigli Non ci possono essere Macchine Sul naviglio grande Le persone Prendono il loro spazio E c'è molta più umanità E questo è il motivo Per cui tra l'altro Tra il naviglio grande E il naviglio pavese C'è un abisso Il naviglio pavese Ha ancora le macchine E quindi è sicuramente Una situazione Più Più sofferente Dal punto di vista Dei locali Perché mi hai chiesto Scusa per dire questa cosa Non No perché Vabbè Si stava parlando Dei navigli Ma questa cosa qua L'ho voluta mettere dentro Perché Spesso la gente Quando siamo lì Dentro all'acqua In canoa Nota che c'è una differenza Tra il naviglio pavese E il naviglio grande E io glielo dico E dico Eh sì Guarda La differenza è che qua Ci sono le auto E quindi non hai locali A destra e a sinistra C'è tutta un'altra cosa E poi vabbè Ce la faremo Poi vedere Questo naviglio pavese Senza auto Ce la faremo Poi Ma proprio è difficile Impossibile È fatto male La durbanistica Non ci aiuta Allora purtroppo Io credo che I social Siano una cosa meravigliosa Ogni tanto Anche se adesso Sta iniziando A essere un po' Dieci anni fa Eravamo in quattro Quando qualcuno diceva Milano non è Amsterdam Ma dire Guarda che Amsterdam È nata proprio Perché avevano troppe auto Prima non c'era Neanche una bicicletta Adesso con i social Io non so Se ci fossero stati i social Negli anni All'inizio degli anni 70 Non so se Amsterdam Sarebbe riuscita A compiere il suo Il suo percorso Perché sicuramente Diciamo I politici In questo momento Con Insomma Molto polarizzato A causa dei social E molto veloce Sempre a causa dei social I politici Io li vedo sempre come Due genitori divorziati E il popolo degli elettori Sono i bambini Figli di divorziati Quindi è molto difficile Che un politico Che vuole accaparrarsi Diciamo L'amore dei figli Dica qualcosa Di Di salutare Di interessante Quindi Cosa fanno i genitori divorziati? Oggi mangiamo patatine Domani pizza E poi l'hamburger E non c'è nessuno È difficile Che uno abbia Coraggio di dire Senti Ho un bel minestrone La pista ciclabile O di barbabietole La pista ciclabile All'inizio è vista Come la barbabietola Come i cavoletti Le costine Non quelle di maiale E quindi Diventa difficile Poi dopo Quando la gente Inizia a vedere Tipo il naviglio Appunto Che c'è Un cambio di vita Io ho fatto sempre L'esempio di Corso Como Cioè pensare Corso Como E mi ricordo Quando appunto Fino anni 90 Credo sia In metà anni 90 Nasce l'idea Di fare Corso Como Pedonale Tutti sul piede di guerra Soprattutto Chi Lì aveva i locali Così Ma voi siete fuori di testa Adesso vorrei vedere Andare lì Scusate Ma pensate Adesso facciamo passare le auto Ma è come Sulla riapertura dei navigli Tu devi Per vedere una cosa Devi sempre Ragionare al contrario Quando si parla Di riapertura dei navigli Ci sono Le persone contrarie Insomma Tutte queste cose qua Dici Guarda Facciamo una bella cosa Perché non chiudiamo questi Andiamo in Darsena Facciamo La cementata Il parcheggio Come avevano detto Cioè Milano Si è rialzata Grazie all'Expo E grazie alla Darsena Che è stata fatta Grazie all'Expo Sì Ancora un po' di musica Poi torniamo ancora qui Con Simone Anche perché Se magari vi siete incuriositi E volete capire Come fare Anche voi A diventare angelici E quindi entrare Anche voi Negli angeli Beh si può fare Non c'è bisogno di far domande Non bisogna essere santi Basta appunto Parlare E chiedere a Simone Ma ce lo spiega benissimo Adesso Dopo con la pesce La malvagità serve al mondo intero Così dice Ma io invece Penso che sarebbero Gli angeli del naviglio Che potrebbero essere utili Ma che assist Che ci ha fatto con la pesce Con questa cosa Fantastico Simone Lunghi Gli angeli del bello La gente ci ha ascoltato Magari si è interessata Come si può diventare Appunto angelici Non santi Ma angelici Allora La cosa migliore È andare sul sito E c'è il calendario Degli appuntamenti C'è la sezione E quindi Possono tranquillamente Vedere i prossimi 90 giorni Aggiornati Dove Dove ci saranno E quando ci saranno C'è un calendario È proprio Tipo Google Calendar Con le varie date Illuminate Diciamo dove c'è qualcosa Si clicca sulla data Dove si intende A fare qualcosa E vengono fuori Gli appuntamenti A disposizione Sparsi Volendoci Si può anche registrare All'appuntamento Oppure si può seguire Noi settimanalmente Mettiamo sempre Quello che sta per succedere Nel fine settimana Solitamente Il giovedì Venerdì Mettiamo questa comunicazione Sul social Che è un po' più immediata E poi volendo Possono anche tranquillamente Associarsi Agli angeli del bello Nel momento In cui si associano Li facciamo anche Entrare Nella chat Dove Dove c'è Tutta la comunicazione Inerente Alle attività C'è anche il report Di quello che abbiamo fatto Insomma Ci sono un po' di Di link Che passano Con i vari reel Che monti Oramai sono diventato Un esperto di montaggio video Saresti orgoglioso di me Se tu mi vedessi Allora Passo le giornate A fare video Di quello che hanno fatto In giro Di quello che ho fatto io Di quello che facciamo In canoa Insomma Tutte queste cose qua Prima abbiamo parlato Degli angeli In Sarpi Non è l'unico gruppo Sono tanti gruppi Sto guardando un po' Sul vostro calendario Così Ed effettivamente Lo so Già questo prossimo weekend Che c'è D'Arsena e Martesana D'Arsena e Martesana D'Arsena e Martesana Fare le pulizie In via Washington Perché gli piace il nome Infatti Quando dici Vado comunque a Washington Adesso Trump Verrà in via Washington Va bene L'hai gufata Alla povera Kamala In questo momento Cioè nel senso Non so se era un endorsement Io fossi in Kamala Toccherai ferro Ovunque Allora toccano legno Però In America toccano legno Perché sa questa cosa Bene Perché tu in America Ci sei anche vissuto Per un piccolo Sì sì Ho vissuto in America Ho scoperto appunto Che dicevano Tocca legno Tocca legno Non tocca ferro Vedi Che sa Comunque veramente Guardavo che ci sono Tutti Tutti i weekend Ricordiamo 53 finora Ininterrottamente Ininterrottamente Sì La nostra attività Che vuol dire anche Vuol dire anche feste Cioè Sicuramente c'erano dei weekend Dove erano attaccate le feste C'erano dei weekend Anche questo In realtà era praticamente Durante un ponte Non si fermano mai Questo fine settimana Avevamo tre appuntamenti Mi sembra avessimo Darsena Forlanini E Sarpi Sì Sarpi Confermo I Sarpis Angels Non mancano mai Ho qui il calendario davanti Confermo che Il presidente Lunghi Si ricorda bene Dove sono Tutti i vari angioletti In giro per la città Ricordiamo appunto Che c'è il sito Angelidelbellomilano.org Dove potete avere tutte le informazioni Fammi dire una cosa Sono a Tipo Non so 5.499 follower Miei personali Simone Lunghi Seguite Voglio arrivare Non dico tanto Non dico tanto Ma uno Ne manca uno Per scollinare Esatto Esatto Le altre attività Bicicletta Sup Così come vanno È l'altra attività Bicicletta Ma Dunque stiamo cercando Abbiamo lanciato l'idea Adesso vediamo Perché Pochi giorni fa C'è stato un morto a Milano Non ciclista Ma Motociclista E siccome c'è una Contrapposizione forte Che dobbiamo cercare Di scongiurare Il più possibile Vorremmo Fare un'attività Di ricordo Di questa persona Tra l'altro Nell'incidente È stato comunque coinvolto Se ho capito bene Anche un ciclista Però la macchina Poi ha travolto Le due persone Sulla moto Sarebbe giusto L'idea Di portare Un fiore Lì Come utenti deboli E cercare Di far capire Che Insomma Bisogna avere Più rispetto Delle regole Purtroppo Siamo in un momento In cui Soprattutto In Italia C'è Quest'è Esistono le regole Però valgono per gli altri Infatti stamattina Ho letto una notizia Su Repubblica Che mi ha fatto sorridere Perché Il titolo era A Milano Verranno fatte più multe Che parcheggia Tra gli alberi Sì E mi hai detto Ma è una notizia Siamo arrivati A fare sì Che questa diventi Una notizia Cioè il fatto Che uno multi Giustamente Il fatto che Uno non può Parcheggiare Tra gli alberi Io Sì Sì Perché le macchine In doppia fila Di cosa parliamo Ricorderò Quando hanno fatto Una pista ciclabile Non dirò in che via C'è una Gelateria Di vicino E il gelateria Si lamenta Dice Ma adesso Le macchine Non possono più Fermarsi in seconda fila Io gli ho fatto notare Ma neanche prima Avrebbero potuto Fermarsi in doppia fila Però Infatti Il momento in cui Si posteggia in doppia fila Vuol dire che lì Puoi fare la ciclabile Io la vedo così Cioè Corso Vercelli C'è tutto lo spazio Per fare la ciclabile Giusto Perché se ci sono Tutte quelle macchine In doppia fila Io vorrei vedere Se una persona Facciamo una cosa Adesso cerchiamo Uno sponsor Per fare questa cosa Diamo 100 euro Se una persona Riesce a darci una foto Di Corso Vercelli In un orario normale Non alle 6 del mattino Alle 3 del mattino Che non sia Il 15 agosto Senza auto In doppia fila Io penso che Teniamo i 100 euro Tranquillamente Sì è una bella challenge Infatti effettivamente Ahimè è una bella challenge Simone grazie Di essere stato qui Con noi questa mattina Grazie a voi Amici di Crystal Radio E Crystal Radio Crystal Radio Sì E amici di Good Morning Milano Ho sempre sognato Dire Good Morning Milano Pensi che l'ho fatto a fare Una trasmissione Chiamata così Io tutte le mattine Posso dirlo Ho il patentino Per poterlo dire Un saluto a tutti i bipedi Dai grazie Simone Davvero Torno a trovarci Quando arriveremo Alle altre 52 settimane Va bene Portiamo Doris Ok perfetto Dai Voglio sentire anche Gli altri angeli Voglio conoscere anche Tutti gli altri angeli Tutti Va bene Portiamo il mitico Vice presidente De Micco Che è la vera anima Un uomo incredibile Con un'energia pazzesca Perché Insomma non è più Proprio un ragazzino Però Quando vado in giro Con Roberto Che insomma Di primavera ne ha Lui è quello più ragazzino di me Nel senso che Lui vuole davvero Cambiare il mondo Ricordiamo che Noi stiamo puntando Se l'ho detto prima A microfoni spenti Noi abbiamo fatto richiesta Per avere 200 persone map Noi vogliamo impattare Milano Pensate voi Cosa stiamo aspettando Di vedere E questo Sarà sicuramente alto Quando si pensa di cambiare il mondo Lo si cambia appunto anche Che è un angolino alla volta Anche in una città Grazie mille Simone Lunghi E adesso andiamo Come di consueto Con la nostra sigla Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.